Ancora una volta abbiamo nuove informazioni su Tiny Tina's Wonderlands. Sì, non finiscono più. Questa volta sappiamo del level cap e abbiamo più informazioni sulla creazione del personaggio. Quindi partiamo da quest'ultimo. Sapevamo dell'editor che abbiamo visto nel video precedente, sapevamo delle classi, del fatto che possiamo scegliere una storia, un background, una razza, eccetera. Ma abbiamo qualche notizia in più. Innanzitutto la conferma della simmetria di cui vi parlavo ieri. Ma abbiamo un'altra conferma. I personaggi alti non sono più forti, eccetera. Quindi vuol dire che potremo fare personaggi alti e bassi. Questo credo sia un errore da parte loro dire che i personaggi alti non sono più forti. Almeno è tecnicamente vero. Se fai un personaggio che ha un tappo la tua hitbox è più piccola. Si spera. Quindi molto bene. Abbiamo poi altri particolari su quali saranno i dettagli che possiamo modificare. Occhi, orecchie, barba, ciglia e anche tatuaggi e trucco del viso. Sappiamo che è possibile poi modificare più avanti queste cose. Nel classico cambio rapido potremo modificarlo sempre. Quindi ottimo. E in più c'è un'opzione chiamata overdrive cursore. Cosa funziona? Questa funzione è letteralmente una funzione di sblocco che vi permette di fare, ad esempio, un occhio che si va a compenetrare con il naso e con l'altro occhio. O un naso talmente grande che è grosso come l'interfaccia, eccetera. Insomma è una funzione che vi sblocca la possibilità di andare oltre i limiti dell'editore e fare degli obbrobri. I limiti sono messi in modo da non fare degli obbrobri, ma se a voi piace fare degli obbrobri potrete fare un obbrobrio in questo modo. Sì, è divertente dire obbrobrio. Sappiamo poi della personalità e adesso abbiamo anche cosa potremo scegliere. Prode, sagace, rude o stravagante. Ogni personalità ha due voci e potremo anche modificare il tono. Stile The Sims probabilmente, quindi ancora meglio. Vuol dire che avremo un totale di almeno otto voci? Not bad. Come avere otto personaggi praticamente. Inoltre abbiamo un pochino più di dettagli su quei sei punti statistica che abbiamo nel nostro personaggio. Quindi forza, destrezza, intelligenza, saggezza, costituzione, sintonizzazione. A cosa vanno a influire? La forza va ad aumentare il danno colpo critico. La destrezza va ad aumentare la probabilità del colpo critico. L'intelligenza va ad aumentare la velocità di ricarica dell'incantesimo. La saggezza aumenta il danno da effetto di stato. Credo che nessuno mettra punti in saggezza, se continua come tutti i borderlands precedenti. La costituzione aumenta l'energia massima e il deflettore che sarebbe lo scudo. E la sintonizzazione aumenta la velocità di ricarica dell'abilità d'azione. Quindi, mio leggero presentimento adesso, una build mono-intelligenza per lo spellcaster, così a caso, tanto per dire. Due magie con un cooldown ridotto al minimo, non mi sembra una brutta idea. Possiamo poi, appunto, ci sono qualche spiegazione sul passato del personaggio. Un passato traumatico, cresciuto dagli elfi, l'idiota del villaggio, eccetera. Ci darà un punto di partenza che cambierà questo tipo di statistiche. E in più abbiamo 10 punti eroi che potremo aggiungere alle statistiche. Gli altri punti eroi li guadagneremo poi più avanti. Comunque, c'è un piccolo disclaimer chiamato Ricorda che una caratteristica in cui sono stati investiti 10 punti eroi vale come punto di partenza. Non ha impatto sull'effetto corrispondente. Quindi, se hai speso solo 8 punti nell'intelligenza, vuol dire che se non raggiungi il limite minimo dei 10 punti, dunque ci vorrà più tempo per ricaricare gli incantesimi. Quindi, what the fuck? Non riesco a capire cosa intendano. Credo che la traduzione sia un po' meno mata. Fatemi mettere la lingua inglese un attimo. Vediamo cosa intendevano con questa spiegazione. Ecco, infatti, la traduzione italiana fa schifo. Traduzione inglese è che serviranno 10 punti in ogni statistica per vederne un effetto. Ad esempio, se mettete 2 punti in intelligenza o 9 punti in intelligenza, non fa differenza. Sarà il decimo punto che farà differenza, sarà il ventesimo punto che fa differenza, il trentesimo punto che fa differenza, eccetera. Non so perché la traduzione italiana faccia così pena, veramente sono stranito, ma ok. Meno male che so l'inglese. Comunque, potremmo comunque, come vi dicevo prima, cambiare completamente aspetto voce e distribuzione dei punti eroe e abilità, senza problemi. La classe primaria principale, quella che scegliete all'inizio del personaggio, non può essere modificata. La classe secondaria, sì. Cambio rapido permette anche di impostare le motte, che quindi tornano da Borderlands 3. Lo standardo e le statue del tessifato, che abbiamo visto agli inizi dei vari trailer di Wonderlands, ne abbiamo parlato con i primi video che ho fatto. E ovviamente ci saranno i soliti oggetti estetici che potremo ottenere. Giusto per fare un esempio, di cui viene parlato poi nel diario degli sviluppatori. Se ad esempio sblocchiamo una pelle che ci rende tutta una gemma, possiamo completamente cambiare il personaggio, non nel senso che gli cambia la skin. Possiamo proprio trasformarlo da, che so, un nano barbuto con un occhio gigante senza un occhio, a un pipistrello gigante con due occhi inquietanti, tanto per dire, e la pelle è da gemma, diciamo così. Quindi sappiamo che anche la pelle sarà un qualcosa di nuovo, e meno male, devo dire. Non c'è molto altro nel devblog, molte delle cose sono quelle di cui abbiamo già parlato. C'è un paio di informazioni finali, un po' di spiegazioni sull'overdrive che non ci interessa. Abbiamo appunto un po' di spiegazioni finali su vari livelli, quindi il level cap, eccetera, come vi ho detto all'inizio. Man mano che porterai il tuo tessifato al livello 40, al livello massimo dell'uscita del gioco, compirai scelte importanti, distribuzioni statistiche, sinergia all'interno delle specializzazioni, l'occupaggiamento, eccetera. Ora, livello 40, vuol dire se fanno come Borderlands 3 38 punti abilità. Non è un gran che, è anche molto più piccolo di Borderlands 3, quindi... Come sarà? Mio presentimento e mia previsione è che se ci sono due abilità d'azione per personaggio che sono diverse l'una dall'altra, magari ci saranno anche varianti di quelle abilità d'azione e l'albero abilità, vedremo. Secondo me, a questo punto, ci saranno due alberi abilità per personaggio. Alla fine, il totale fa 12 alberi abilità, che non è un gran che. Perché se andiamo a pensare che Borderlands 2 con 6 personaggi e 3 alberi ciascuno sono 18 alberi abilità, stessa cosa al pre-sequel. Borderlands 3, 4 alberi abilità su 4 personaggi sono 16. A questo punto avrebbe anche senso fare 2 per 6, 12. Poi, se ogni personaggio ne ha 3, sarebbe meglio. Ma visto che ci sono solo due abilità d'azione, secondo me ogni personaggio avrà due alberi abilità. Ora, ci saranno quindi meno abilità per albero in modo da poterne maxare due? Probabilmente no. Però mi fa strano, a questo punto, se avremo due alberi di abilità e poi altri due con il multiclasse, quindi un totale di 4, avere solo 38 punti per 4 alberi abilità mi sembra un po' strano. Dovremmo vedere, magari, in realtà non ne otteniamo 38 di punti, ma magari parte dal livello 5 come Borderlands 2, ne otteniamo 35, ne otteniamo 2 punti per livello, magari ne otteniamo 70 da mettere sui vari alberi abilità. Sono tutte cose che purtroppo al momento non possiamo conoscere. Infine, ultimo dettaglio, abbiamo due spiegazioni su due nuove armi legendarie. Reign of Armaros, che abbiamo già visto nel trailer, quello shotgun che sembra un Elwalker, che spara delle frecce con una traiettoria molto d'arco, e se colpite un nemico generano una pioggia di frecce su quel punto. Mi sembra un'arma fantastica per questo tipo. E inoltre abbiamo un'arma già vista, lo Sword Explosion, che rappresenta un Borderlands 2 con il DLC, assalto della rocca del drago di Tannitina. Ora, le spade si configano ai nemici se il colpo va a segno usando la modalità di fuoco alternativo per evocare un enorme spade Eteriak sotto i nemici colpiti. Lo abbiamo già visto in un trailer. Ora, io me li sono riguardati tutti, giuro che non riesco a trovarlo, ma mi ricordo di averlo visto, di averlo discusso con alcuni altri creator di Borderlands. Quindi, se qualcuno vede il trailer e trova il minuto esatto, me lo scriva nei commenti, che lo metto poi in descrizione, c'era nel trailer questo Shotgun Torg, che sparava delle spade contro i nemici, poi ha messo la modalità di fuoco alternativa, ha sparato e si è creato un'enorme spadona verde sopra il nemico. Secondo me, quello era lo Sword Explosion, e l'avevo già previsto all'epoca. Non mi ricordo se ne avevo parlato in un video, purtroppo, ne ho fatti fin troppi su Wonderlands. Ma sono sicuro al 90% che fosse quella. Queste erano quindi quasi tutte le nuove informazioni, hanno spiegato un po' di più qualche nuovo nemico, ma sinceramente non ce ne frega. Noi vogliamo cose che ci servono. Sapere perché un nemico è uno squalo non ci interessa. Lo vedremo poi quando ci giochiamo. Cliccate qui per vedere il mio video precedente sull'editor dei personaggi. Cliccate qui per vedere il mio video precedente.